Francesco, raccontami qualcosa di te, della tua terra. Allora, io parlo da una famiglia di pastori, quindi spostamenti, vestiamme, abbiamo vissuto anche giù vicino a Cagliari, a Silicua, lì c'è rimasto per 38 anni mio padre. Mettacato! A te, la fai! Da quanto tempo sei tu, Francesco? Ad oggi sono quasi 13 anni. Addirittura? Esatto. Aspetta. Viaggio, quindi mi ho portato il bestiame qui, ma dopo un anno che ho fatto con Mauro e Maria, una famiglia di Orgosolo che vive qui dietro... Ah, si lo... A campone. Si, 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 si. E tu? E tu cosa ne ha gustado pomer delessia? Pomer delessia? E' a esas priegas che hanno usato sin te. A me la tomo, a denunciare tu bietta a me delessia. Mi pare prima di vino, ah. Alla! Oì, buongiorno, Caterina. A io, patatà, sento. Forma, eh? Eh. La, ti ho portato un po' di formaggio, Caterina. Si. Uff. Un po' di prima qualità, no? Formaggio fresco. E' una riscotezza. Un po' di prima qualità. Una riscotezza. Una riscotezza. E uno da visto passato, su? So. Che cosa è lo scuro? No, non l'hai, no, io invece lo scuro Stavamo facendoci una chiaccherata Ci veniamo in Sardegna Di nuovo Grazie a tutti, grazie a tutti.